Ciao Fabio, io sono il salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi tifosi e fan. Un saluto a tutti i miei tifosi, interessi. Ecco, ciao, evviva lo spot, aspetta la manina, la manina è un saluto, il salutatore. Ciao a tutti i tuoi tifosi e il far play sempre. Sempre, sempre. Ciao, ciao, grazie. Questo è tuo, eh.